Siamo a punto che oggi ci aspettavamo che ci venisse presentato una bozza di decreto, così non è stato, perché ci è stato detto che nella giornata di giovedì sarà sostanzialmente presentata la conferenza Stato-Regioni. Noi comunque ci abbiamo tenuto a ribadire che questa riforma, che non abbiamo osteggiato in termini generali, la metteremo in una posizione diversa nel caso in cui riguarderà la messa in discussione dei lavoratori. Noi riteniamo che un assetto nuovo di riforma vada sostenuto, ma non sulla pelle dei lavoratori e questo è ciò che abbiamo detto. Ci teniamo che vengano mantenute le possibilità che all'interno delle società ci sia personale qualificato, capace, che soprattutto sia difesa la propria professionalità e nello stesso tempo la continuità di reddito.